Oggi ci troviamo a parlare di una collezione molto particolare che riguarda il mondo del Sassuolo, anzi tutto il mondo del Sassuolo, che lo racconta dal primo anno di Serie A fino ad oggi. Tu sei un tifoso, sei un collezionista e tutto parte dai match program che vengono distribuiti ogni domenica, ogni partita casalinga al MAPE. Che cosa hai fatto? Praticamente ho raccolto tutti i giornalini che vengono distribuiti allo stadio e li ho divisi annata per annata, tutti rilegati, arricchendoli con il discorso delle figurine. Più ci sono tutti i risultati delle partite, dalla Serie A, femminile, primavera, settore giovanile, anche lo staff tecnico con tutte le firme degli allenatori e via. E quindi è una collezione che continua, che inizia a metà luglio quando la squadra va in ritiro e finisce alla fine del campionato, verso metà, fine maggio. Questi libri relegati diventano in questo modo di veri e propri almanacchi, delle enciclopedie annuali del Sassuolo. Direi proprio di sì, direi perché qui non manca assolutamente niente. Ci sono anche alcune cose particolari, tipo questa, quello dell'Europa League, anche qui con tutti i risultati, tutti gli articoli dei giornali e queste cose. Più in particolare c'è questo qui, in cui ho un grandissimo ricordo, perché c'è la firma del nostro compianto presidente, il dottor Squinzi, e in cui anche qui vengono raccolte tutte le foto dei calciatori del Sassuolo che hanno vestito la maglia dal 2008 al 2015, tutte firmate. E quindi anche questa è una cosa che ritengo particolarmente. Quando esce l'album Calciatori Panini, tu vai a comprare le figurine, non per riempire l'album, ma per avere tutti i giocatori nero-verdi. Esatto, esattamente. Tutte le figurine, ovviamente, dei giocatori del Sassuolo, più ci sono gli aggiornamenti che vengono messi a marzo, e quindi prendo anche quelli e poi faccio firmare anche di conseguenza tutti quanti. Oltre che un cacciatore di questi reperti, sei un cacciatore di autografi, quindi tutte le figurine sono autografate. Sì, tutte le figurine sono autografate, comprese quelle dei calciatori, diciamo, non titolari, nel senso che chiaramente la Panini non è che mette tutte le figurine, ne mette di solito 22, più ci sono anche le riserve, diciamo, cosiddette riserve, e quindi vengono comunque firmate da tutti, compreso lo staff tecnico e tutto quanto. Ti metto alla prova. Se ti chiedo figurine autografo di Mariusx Alexe, stagione 2013-2014, a primi in A, ce l'hai? Sì, sì, ce l'ho. Fu uno dei nostri calciatori del primo campionato, diciamo. Sicuramente hai qualche aneddoto, avventura particolare da raccontare. Mi ricordo con Sergio Flocari, che praticamente io ho imparato la sera che lui era stato ceduto al Bologna e io il giorno dopo andai allo Stadio Ricci per caso, così, trovai lui che usciva con il borsone e stava andando proprio a Bologna, quindi riuscì ad avere la figurina. Con Boateng mi ricordo che lui a primi di gennaio se ne andò al Barcellona. Io avevo la figurina, ma chiaramente non era firmata, quindi sai, ho detto, va al Barcellona, qui diventa un problema. La figurina era appena uscita o stava uscendo? Era appena uscita, io ce l'avevo, però non era firmata. Lui andò in Spagna, allora io ho detto, ma qua mi sa che stavolta... Invece poi quest'anno, la prima settimana che erano in ritiro, vennero a fare preparazione qui e sono riuscito ad avere anche quella. Quindi, Maurizio, si può dire che tra risultati, autografi, figurine, foto, non manca niente. Si può dire? Si può dire. Non c'è un marcatore che manca, un giocatore, una foto, niente. Non manca niente. E nessuno, niente e nessuno. E nessuno, esatto. E nessuno, esatto. Grazie.